Musica Ben trovati a voi tutti all'interno della nostra rubrica Insieme Oltre 2000, un appuntamento fisso, come sapete, dedicato al mondo della sociale, del volontariato, a quanto di bello accade nel nostro territorio. E sicuramente una bella realtà, una realtà che fa del bene, è la comunità Villa San Francesco di Facenna di Pedavena. È tornato a trovarci in studio il direttore di questa preziosa realtà, Aldo Bertelle, che saluto e ringrazio. Ringrazio pure io di questa nuova accoglienza, che è sempre bella. Grazie direttore, abbiamo tante cose da dire e da raccontare, perché la comunità è davvero ricca e animata sempre da grandi iniziative e progettualità. E poi questo, il 2023, è un anno importante, perché è il vostro 75esimo anniversario, quindi il lavoro non manca, le attività non mancano. Assolutamente no. È bello ricordare, ma con una grande idea di pensare a domani, perché la memoria è importantissima, noi abbiamo il Museo dei Sogni della Memoria, quindi è chiaro che la sua domanda è perfetta, però vedere le istanze nuove, i bisogni nuovi, le fatiche nuove, quel portarsi a 5.000 chilometri di storia, e quindi una cosa impossibile, all'indietro e pensare già fra 20, 30, 40, 50 anni. Capire è un verbo molto importante. Anche perché si va incontro comunque sempre all'evoluzione della società e quello che la società richiede oggigiorno, le nuove problematiche che si vanno ad affrontare, perché ricordiamo comunque la vostra è una comunità che aiuta le persone che si trovano in difficoltà sociale, economica, familiare, a un punto di riferimento. È un'analisi perfetta e vera. Credo che forse in tutti questi anni la comunità non ha mai voluto privatizzare, non ha mai voluto essere un'isola, ma avere sempre le porte aperte. E capire cosa poteva e forse spero potrà fare in futuro è essere vicina al mondo dell'adolescenza, in particolare di tutto il nostro territorio e delle migliaia, 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 veramente migliaia di ragazzi che vengono in visita al Museo dei Sogni della Memoria. Cominciamo con una novità, direttore. Pensavo di tenerla per dopo, ma direi che è meglio subito farla vedere. Questa è la nuova pubblicazione che racconta appunto questa lunghissima storia. Edita dalle linee a quaderni, diretta dall'avvocato Enrico Gas, ha una copertina splendida di un bellunese e di un feltrino che è amato e che è innamorato delle nostre terre e delle nostre valli. Raccoglie, è un libro strano se vogliamo, di 533 pagine e 580 pezzi contatti, scritti da voi giornalisti, dal 1948 a ieri l'altro al Quirinale con Samuel. Raccoglie, è una storia fatta proprio dai giornalisti. C'è stata forse una capacità di archiviare, di mettere via, altrimenti oggi non sarebbe stato possibile raccontare la storia di 75 anni della comunità, impossibile. Quindi il merito è tutto vostro. Infatti qui io sto scorrendo molto velocemente, spero che anche si riesca a vedere così, lo giro un po' a favore di camera. Questi sono alcuni degli articoli, insomma i tanti articoli che nel tempo sono stati pubblicati dai vari periodici locali del territorio bellunese, che raccontano quindi questa storia di amore, questa storia di aiuto, di solidarietà verso il prossimo. Fra le tante pubblicazioni facciamo vedere anche la prima, che si trova proprio all'inizio del nuovo volume. Eccola qua, forse riusciamo a far vedere, Battesimo a Facen della Casa del Sole. Così veniva chiamato, questo è datato 1948. È del settembre del 48 e il CIVI di Venezia, per dare una risposta ai grandi problemi nel mondo dell'infanzia, soprattutto della preadolescenza maschile e femminile di quegli anni, che era un problema di salute, un problema economico, un problema di stare male, e quindi venivano aperti in montagna o al mare queste case del sole, che potevano essere una risposta anche a quelle difficoltà di natura un po' personale e sanitaria. Poi però la storia è evoluta e quindi anche la casa stessa, e quindi anche la comunità stessa, ha un po' mutato quella che era la sua filosofia, però sempre rispondendo ai bisogni della popolazione. Esattamente, da Preventorio muta in Colonia, le grandi colonie, ancora quelle del dopoguerra, quindi c'erano tantissime anche nel Belunese, ancora adesso se vai nel Cadore vedi scritto Colonia, Colonia, o se vai al mare Colonia. E noi nel 74-78 abbiamo provato a pensare, provare a capire e anche poi agire, che sono tre passi sempre fondamentali su qualsiasi azione, sia personale che comunitaria, come può essere in questo caso, e quindi provare a vedere se si poteva dare una risposta in più a una specificità. Quindi abbiamo scelto il Piave. Il cammino del Piave ha fatto la scelta di accogliere i ragazzi delle scuole elementari e poi medie, che non fu facile, tenendo sempre assieme maschi e femmine, perché la norma prima, abbastanza problematica dal mio punto di vista, era che potevi stare assieme, se potevi stare, fino a 11 anni, 12, poi bisognava dividere. Sorelle e fratelli divisi. Chi di qua raggiungi questa età deve andare via. Quindi ancora un'altra separazione. Cose drammatiche, credo. Certo, per i giovani. E poi arriviamo invece ai giorni nostri con un'ultima pubblicazione che è proprio recentissima e quindi Aldo l'ha messa così nel libro assieme, però la pubblicazione racconta la storia di Samuele, ricevuto al Quirinale da Mattarella. La curerà l'accoglienza a Casa Italia Lisbona. Questo è il titolo dell'articolo. E qui si vede proprio la foto con il Presidente Mattarella che riceve alcuni giovani, fra i quali vi è un rappresentante della comunità Villa San Francesco. Corre l'obbligo che Aldo Bertelle non ha trafficato nulla. Anzi, era molto sorpreso alla telefonata del responsabile della pastoralia giovanile della conferenza episcopare italiana che chiedeva di avere Samuele. Io ho risposto, che bisognava valutare, mi ha risposto duramente dicendomi che lui non chiedeva ragazzi teologi. E quindi Samuele, da non teologo, ma da teologo della vita, e soprattutto della vita contadina, un ragazzo splendido, che è misurato però, che rimane quel che rimane, è andato, vabbè, se tu ritieni di portarlo a Lisbona, portalo a Lisbona, fai tu, poi vedi tu insomma. E quindi tante volte quando parliamo va capito il non detto, non il detto, e sono sicuro che i telespettatori capiranno il non detto mio, non ho dubbi. Alla fine, insomma, salta fuori che poi c'era anche un'udienza dal Presidente della Repubblica, perché mi avevano chiesto la bandiera dell'Italia, perché loro curano Casa Italia. Quindi tutti i ragazzi italiani, passano tutti per Lisbona, tutti per i compresi, tutti i vescovi italiani, di cui Samuele probabilmente farà anche il caffè alla mattina. L'udienza al Quirinale è andata come è andata, c'è stata una situazione, poi l'ha vista, chi ha visto il TG1, in cui Samuele punta il dito al Presidente e gli chiede, ma lei viene Presidente a Belluno? Presidente, poi ho chiesto, ma cosa ti ha detto? Belluno, ma no, Lungarone, Presidente, certo che vengo. E qui i giornalisti sono una razza potente, mi sono innamorato i giornalisti. Quindi quando hanno sentito questo, io ho cominciato a telefonare, ma siamo sicuri? Perché in realtà poi, il Quirinale ha sempre detto che verrebbe, ma il Presidente non c'era traccia, che poi c'era il sì, e il sì lo ha preso Samuele al Quirinale. E per il prossimo appuntamento col Vaiont, naturalmente, con l'anniversario. Straordinario, straordinario. E ritorniamo però a parlare adesso della comunità, forse abbiamo, grazie all'aiuto di Simone Regia, anche qualche immagine che ci fa vedere così, da vicino, questa bella realtà, questa comunità che si trova a Pedavena, e che è inserita e che collabora appunto con le realtà che ci sono sul territorio, in primis l'amministrazione comunale, per esempio. Proprio in estate partirà un nuovo progetto che vi vede collaborare. Durante la festa, all'inizio dell'anno, insomma, lanciando un po' le iniziative, costruendo assieme, è nato un po' questo slogan, ma che forse non è neanche uno slogan, mai senza l'altro. Me lo disse il Vescovo Bregantini al Sant'Era dei Polsi, famoso, a Locri, su in alto, dice Aldo, mai senza l'altro, mai senza l'altro. Lui disse un'espressione un po' differente, insomma, ma il senso era questo. E allora abbiamo detto, tutte le iniziative nell'anno 75, nel 2023, ma anche sempre, come fu sempre anche prima, ma adesso ancora in maniera più convinta, mai senza l'altro, è nato un splendido rapporto, ancora di più, più incisivo ancora, nel suo piano organizzativo, con l'amministrazione comunale di Pedavena e la unità pastorale Pedavena Facen, Travagola e Norce, per offrire tutti gli spazi della comunità, le persone della comunità, i ragazzi della comunità, del crescere assieme e fare un'attività educativa, formativa, parascolastica al pomeriggio. Cosa bellissima. Ecco, questa è fatta assieme, una delle iniziative fatte assieme. Quindi una nuova progettualità che adesso, proprio nell'estate, in cui i ragazzi sono a casa, si ritrovano a condividere. Potrà ripartire anche dall'inizio dell'anno scolastico, chi avrà bisogno, che si troverà un po' in difficoltà, e sul piano personale, forse anche un po' economico, la torma e la stazione comunale e la parrocchia sono molto attenti e hanno chiesto di fare assieme alla comunità un'attività scolastica pomeridiana in comunità. La Villa San Francesco accoglie anche i giovani che magari arrivano dall'estero, è il caso appunto dei migranti. Abbiamo visto qualche immagine di un vostro ragazzo che insomma imparava anche a disegnare, imparava la tecnica della fresco, naturalmente con il grande maestro Vico Calabrò. È il ragazzo di cui c'era un'immagine dell'altra volta, un servizio bellissimo, adesso sembra che io faccia piageria, insomma, no, no, non è vero. L'ultimo pezzo uscito insieme per il 2000, con il 2000 e per e con, è stato straordinario, bellissimo. Con Soleiman, se mi ricordo bene il nome. È proprio con Soleiman. Ecco che lo vediamo anche qui in questo momento. Proprio, adesso c'è la prova che Samato comincia a lavorare e comincia a fare il lavoro più semplice che noi magari qualche volta fatichiamo, il lavapiatti. È stato trovato proprio anche con l'amministrazione comunale la possibilità di lui comincerà due o tre giorni. L'altra volta cominciava a imparare qualche parola di italiano, no? Certo. Io potrei essere testimoni e quindi rispettoso per i telespettatori che eravate partiti nella maniera più straordinaria proprio quei giorni qui cominciava con quel tono di voce che ha lui che l'è, soltanto da sorridere per come pronuncia l'italiano. È bellissimo. E adesso passo in avanti. Un po' di italiano l'ha imparato e si è fatto il corso tra feltre di alfabetizzazione e sabato mi sembra proprio quindi tra poche ore comincerà a lavorare. E' una bella storia diciamo che si è conclusa con un lieto fine. Ovviamente buon lavoro a Soleiman. Questo va avanti grazie alla forza dei volontari. La comunità va avanti grazie ai volontari. Non sarebbe mai stato possibile fare quel che è stato fatto se non ci fossero e se non ci sono e se non ci saranno una forza plurale meravigliosa del volontariato. E se lei mi consente io ricevete una telefonata la mattina presto ma era segretario di Papa Giovanni che era il cardinale Capovilla Loris Francesco che lui sapeva che io dormia la mattina era su presto e lui altrettanto chiamava e chiamava con la penna rossa e blu che è stata la mia personale fortuna anche della comunità e disse si è vero si è vero parlava il dialetto insomma era era veneto padovano e veneziano si è vero tu le idee le hai anche messe però ricordati vedi che ti viene il dito no? di Samuel Aquirinale però ricordati che è vero che tu hai messo anche degli idee questo è vero però i tuoi non ti hanno mai detto una volta di no cominciare da chi ti parla mai più dimenticata ed è veramente una forza qualificante di tutte le storie di tutte le professioni dall'ettricista all'avvocato dal giornalista a chi lava piatti a chi viene a pulire a chi fa attività di dopo scuola forse se dovessi io dire qualcosa sulla comunità di Villa San Francesco direi che questo è stato possibile in tutti questi anni per questa presenza meravigliosa per questa forza e tra i vari anniversari nel 2023 ci sono anche i 30 anni della Casa degli Affreschi questa è la pubblicazione che era stata presentata che era stata realizzata in occasione del 25esimo 25 anni di affresco in Casa Emmaus però ormai sono ben 30 quindi si è andati avanti di 30 anni con lo ricordavamo prima il maestro Vico Calabro che è da sempre vicino alla comunità io ho detto che il Padre Eterno quella volta dissi quell'altra volta suscitando qualche commento un po' simpatico era un po' stanco e quindi ha detto ma to te neve Calabro che ve lo caccio giù quindi era l'amore profondo verso Dio e rispettoso verso l'autore della vita e anche a Vico Calabro quale fra pochi giorni il 22 di giugno parte per l'ennesimo cantiere artistico estivo e quindi ancora affresco perché lui è malato di affresco insomma un grande esperto un grande cultore innamorato di questa pratica credo che sia l'unico al mondo insomma io non credo di esagerare qualcosa di Calabromi nintendo insomma e conosco l'ha dato tutta la vita per salvare questa preziosità italiana dell'affresco cacciata fuori dalla storia nostra italiana su un pifo affresco nelle accademi e niente e lui l'ha canito per questo e quindi questo cantiere esatto questo cantiere inizierà il 22 poi va avanti per intorno a metà luglio sarà fatto un affresco anche all'interno uno o due all'interno della comunità uno parteciperà anche i ragazzi e uno ho visto già frescanti che hanno chiesto dal Messico a venire possono alloggiare la casa degli affreschi dove si può vivere e questo è il dato più significativo ma Calabromi ha deciso anche di fare pittura muraria sempre a fresco decorazione muraria quindi gli abitanti li facciano anche una casa all'anno se vogliono un segno un fiore un filo di luce una luna quieta ecco basta che dicano e Calabro passa per facenco i suoi funzionari meravigliosi dell'arte e si potrà fare anche questo e a rendere così ancora più bello questo nostro territorio allora noi abbiamo fatto con il direttore Bertelle una veloce panoramica appunto sulle tante attività della comunità Villa San Francesco in chiusura io vi ricordo la nuova pubblicazione proprio per questo 75esimo anniversario pubblicazione che si trova alla comunità e quindi per chi lo desidera insomma vi è la possibilità di averne una copia io ringrazio dico ancora il direttore buon compleanno ma ci ritroveremo ancora Bertelle proprio per continuare in questo anno speciale a raccontare tutti i tanti progetti e la vita della comunità grazie infinite e a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci a tutti i tanti a tutti i tanti progetti 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 Grazie a tutti.